Il tuo primo gol in maglia bianca ha fatto sognare tutti i tifosi oggi, fino a un certo punto ci abbiamo sperato tutti. Senza dubbio ci abbiamo sperato perché abbiamo tenuto botta, abbiamo fatto un'ottima partita fino al 2 a 1 in cui magari dopo abbiamo calato anche un po' forse anche di testa e dopo ci hanno punito però c'è di buono che 60 minuti abbiamo fatti molto bene a mio avviso. È bello vedere questa squadra perché a prescindere dall'avversario prova sempre a imporre il proprio gioco. Questo è quello che proviamo in settimana, che insieme al mister ci lavoriamo ed è la cosa che sappiamo fare quindi dobbiamo sempre riproporla contro tutti e sicuramente prendere esperienza di qualche errore perché sicuramente degli errori si fanno e migliorarli per le prossime partite. Tu l'anno scorso hai segnato molto in Serie B, questo è il tuo primo gol in Serie A, speriamo di continuare magari anche con qualche inserimento che è un po' la tua specialità. Sì, l'anno scorso sono uscito a togliermi qualche soddisfazione, andrei in rete diverse volte ed è una un po' delle caratteristiche che mi porto dietro nel bagaglio. Adesso mi sembra che conoscendosi sempre di più con i compagni e con la squadra cercherò di metterla sempre più a disposizione e sperando di togliermi e toglierci tante altre soddisfazioni. La prossima partita sarà uno scontro diretto contro un'altra nuova promossa che tu conosci molto bene. Cosa servirà per portare a casa Punti da Benevento? Secondo me servirà continuare sulla linea su cui stiamo lavorando, imporre il nostro gioco, cercare di essere sempre attenti, concentrati e fare quello che si prova in settimana, convinti per fare la migliore partita che riusciamo a fare. Grazie.